Scappatina a Venezia Vista dalla camera Abbiamo visto l'arrabbiata alla Fenice Abbiamo bevuto il caffè da Florian Poi siamo andati a Murano Murano Insomma Solo un animo di pace, mar e categorie, cielo e mare, Dota, dota, Maria, Dota, dota, Maria, Abbiamo visto delle realizzazioni magnifiche. Ma come si costruisce un cavallino? Noi abbiamo visto. Noi abbiamo visto. Noi abbiamo visto. Noi abbiamo visto.